GEN! GEN! L'HA FATTO! Buongiorno, buongiorno! Dove siamo oggi? Raccontaci Gianluca, ah merdazza! Siamo al freddo, in mezzo ai pinguini, cazzo, è a luglio! Eurasia! Come si chiama il giro? Rai Land? Ragazzi stiamo affrontando un S3, sicuramente per me il Maurone non è cosa da poco! Oioh! Oiohohoo! Oiohuan oio consumo77 vin e sass sciosa Grazie a tutti i vårementi Grazie a tutti Sei contento oggi che siamo su gli S3? Grazie a tutti Grazie a tutti Viva la S1 S1 forever Lago di Rezia Il famoso campanino del Curon Aspettami Luchino Non deve scappare Lago di Rezia Vieni qua Vieni qua Grande fratele Stata dura stare dietro ragazzi E' stata durissima stare dietro In S2 Yeah Grazie a tutti Grazie a tutti E come al solito Si finisce Sempre E' il poeta A me mi dice che quando faccio le poesie Come l'altro giorno Questa è pura poesia ragazzi Sono versetti satanici questi Ciao 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 Grazie a tutti.